Varasile ha giocato il quadro Regno che ha allargato sulla sinistra per il Sini sta molto bene poi palla dentro in profondità, come va a servire faccio il terreno su 90, non serve un possibile non riusci il palloneare non è solito l'arga per il Sini concentrarci, palla dentro, attenzione non si sa se poi il gasto di Nacos Dombra non esterirà il giocatore brasiliano attenzione una pisarda, sta per il cross un profondo un pallone dagli avanti un po' di passi un po' di passi un cross dentro, attenzione la pisarda a poco di una difesa passata le intenzioni del giocatore il numero numero 4 Sini un perso verso il centro, prova il lancio in profondità attenzione verso il centro un pallone prestato qua dalla pisa per un Sini ottimo la cance legante frecchio il potente un bravo un bravo un Sini e un sin non sembra quello cercante i sui compagnoni Questa è la cosa che è che è realizzata con la Cosnerra. Va a fare un po' di capitale. Però poi passa, poi passa. Poi va col dentro! Tomei! Il calcio d'acqua. Così. 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 Con un'altra musica, già a Patassina, si puoi da del 2010, centralmente la Reppe, ma se vuoi andare in un po, apre dalla capacola, che è un progettivo che è successo, che riesce a fare un'efficacia. E poi va davvero, che con un'altra cosa, che si è, che è molto importante. Il mio primo, è un'altra cosa che non è che non è necessario. Ma due motini, con la verticale, al cervicale di Cicco di Cicco di Cicco di Vigna di Dere di Cicco di Cicco di Cicco di Cicco di Cicco di Rientrata in Ravisano ora si prova a andar via Warner Cicco di Cicco arriva adesso numero 10 servito prova a l'invita seminata di rigore il cross dentro poi che è un tiro sul primo palco si fa sorprendere Domeni rimane a terra però il numero no come fu un colpo a Lepiso Lussini continua a giocare c'è vicino lui Lusso ma sul fondo Lussini poi si ferma raddoppiato tra calcio Valdassin Lussini la lunga l'indirizzo di Genevieve l'attore Lussini adesso Valdassin l'indirizzo di Giorgio l'indirizzo di Giorgio l'indirizzo di Giorgio Grazie a tutti.